Ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati nella serie della failcraft oggi già potete vedere che c'è una grande sorpresa Oltre Anna che è qui a fianco a me per iniziare questo episodio insieme Ma Anna Finalmente Guardati intorno che cosa ho fatto io nel weekend Stavo già guardando ma sei spaventoso guarda quanta roba hai fatto Allora questa è la costruzione che io ho fatto da solo più grande e difficile mai realizzata è stato veramente difficile e ho anche le prove di averla fatta tutta da solo Questi sono tutti i picconi che io ho utilizzato per raccogliere tutta la pietra che voi vedete messa nei muri di questo castello Madonna ma quanti li posso mettere insieme così li uso io Ci ho messo un sacco no Anna quelli sono scarti ma sono da conservare perché io non ho mai lavorato così tanto a scavare per creare un castello del genere Ma sei stato bravissimo e oltretutto ho notato che mi hai messo anche il lettino Ti ho messo il lettino e oggi è una giornata di grandi missioni quindi tu ovviamente avrai le tue cose da fare A proposito no a proposito di missioni sono stanca perché anch'io sono un'avventuriera anch'io voglio essere epica voglio partire anch'io Ma bene ricordati che nell'inventario abbiamo la gemma il cristallo vgf per aprire di nuovo il vault e rientrare ancora una volta a fare un'altra missione per salvare un altro dei ragazzi Continuate a scriverci nei commenti chi volete che venga salvato per prossimo perché sarete voi a deciderlo ovviamente Però Anna se tu vuoi dare un'esplorazione per conto tuo io ho tante cose da fare anche per conto mio quindi va benissimo ci ritroveremo durante Sono armata e ti chiamerò quando avrò trovato qualcosa Aspetta prima voglio farti dare un'occhiata davvero bene a questo castello scusa se è poco ma io ci ho messo un sacco di fatica e voglio che venga apprezzato Voglio che mi fai una cosa importante però voglio farti vedere che sono utile Tu mi avevi chiesto delle carote perché i villager commerciano meglio con quelle ed eccole qua le ho piantate tante tante Quelle serviranno più a te che a me perché i villager ovviamente le abbiamo tenuti ti venderanno tanti libri di incantamento e ti sistemerai benissimo anche tu Però adesso vieni con me ti faccio vedere il piano di sopra perché questa torre ti fa salire una volta qui e hai una stanzetta così per farci qualcosa Più in alto ancora così ci si può andare sopra il muro di cinta del castello e c'è tutto il circondario così E qui si fa tutto il giro quando la notte arrivano migliaia di mostri noi siamo preparati e nessuno potrà entrare dentro il castello Poi ancora più sopra si può salire su ognuna delle torri e da qui c'hai proprio la postazione da sedio perfetta Perché qui non c'è cavolo che tenga tutto quello che arriva tu lo puoi sniperare Si vede tutta la valle no è fichissimo è perfetto per difendersi Quanto voto mi date da 1 a 10 dovete scrivermelo nei commenti tu quanto mi dai da 1 a 10 per questa roba Mille miglia è bellissimo Oh è bello avere qualcuno che ti supporta ci ho messo davvero tanto ma ne vale la pena perché a questa serie ci sto mettendo l'anima e il cuore Allora adesso Anna prima di partire tu per il tuo viaggio e io per il mio diamo subito una dormita nel letto così e poi ognuno se ne va per la sua strada Ci tocchiamo i piedini Bene Anna è partita Oh che cavolo Cosa cavolo Oh Anna Anna è partita per la sua di avventura quindi ovviamente non è più in stanza nemmeno con me Ma che cavolo Non credo sia stata lei a darmi sta roba Find it e c'è il witter Slate e c'è una spada Earn your reward Sei Che cosa vuol dire sei Che cavolo è successo Ma avete visto anche voi che c'era tutta una nebbia e nera intorno a me Find the witter Slate vuol dire uccidilo Earn your reward Guadagnati la tua ricompensa Le mappe Porca miseria questo mi pare un eterno ritornare al vecchio mondo della failcraft Dove io ricevevo messaggi attraverso le mappe Al tempo le ricevevo dall'intruso però questa mappa non mi sembra dell'intruso perché c'è un numero alla fine Sei punto Sei puntato Cosa vuol dire come se fosse firmato da uno che si chiama sei Beh però sapete che cosa vi dico io ovviamente non mi tiro mai indietro davanti a una sfida Quindi credo che effettivamente noi possiamo anche andare a fare il witter perché no non sarà nemmeno così difficile secondo me Quindi ci fiondiamo direttamente dentro il nether e la nostra missione Prima missione del giorno perché poi dobbiamo fare anche tante altre cose sarà uccidere un witter per avere un reward Mi piacciono i reward e poi se questa è tipo una missione random magari che ti capita ogni tanto dobbiamo approfittare e farla subito Tanto nel nether noi dovremmo avere strada facile per via del fatto che abbiamo sia l'elitra E sia la possibilità anche senza razzetti con il nostro boost di proseguire e di volare via Certo se non tocco per terra magari è meglio ma mi pare di non avere difficoltà Ok ci serve da trovare una fortezza Mi ricordo che ce n'era una da queste parti Urca miseria e questo che cavolo Oh a parte tu eh tu non mi piaci però Allora questo posto mi piace ancora di meno Ma che cavolo è ma Oh Beh beh però ci sono i mostri che ci servivano a noi qui eh Eh santa maria ok ok mi servono le loro teschi però Non mi aspettavo che fosse sto genere di casino Madonna mia ok Cerchiamo di rompere tutti gli spawner per cortesia di dio Perché qua ci sono un casino di mostri Un casino di mostri ci sono degli spawner di ghast Degli spawner di ghast Ma ci sarà roba anche in alto Oh mamma mia ma quanti sono Sono tantissimi Fanno un casino Li odio io i ghast Li odio non pensavo di imbarcarmi in una roba del genere Ma neanche per idea avrei mai pensato di trovarmi in uno spawner di ghast Dieci spawner di ghast Guarda quelli sono bloccati nelle gabbie Oh che proata che ho fatto libero Aspetta che uccidiamo anche questi qua Così la smettono di ragliare Uh fortuna fattica panna Abbiamo trovato quattro wither skeleton school Spooky scary skeleton Si cavolo questi ci servono E' proprio quello che ci serve in realtà Cioè mi sembra quasi difficile credere che sia un caso tutto ciò Anzi sembra proprio fatto apposta Bene manca soltanto la soul sand e poi avremo tutto per spawnare il wither Se effettivamente lo vogliamo fare Però sapete che cosa vi dico Oh ma che cavolo ma che paura Che paura che brutta paura Ma che cavolo era Madonna mia No beh anche il nether però è pieno di schifo eh E' pieno questo è un fantasma Orribile E scheletri che combattono tra loro Beh meglio tra di voi che contro di me Prendo la soul sand che mi serve e me ne vado Non voglio dare fastidio E il nether in questo mondo Mi sembra più brutto di quanto me lo ricordassi E a me non è mai piaciuto Quindi immaginate quanto poco mi deve piacere adesso Ce ne sono altri? No perfetto Però mi incuriosisce molto quel tempio bianco che abbiamo trovato Mi domando Anzi sono quasi sicuro che effettivamente ci possano essere altri posti eh qui nel nether Questa è la fortezza dei piglin Posto assolutamente da tornare a vedere Però non adesso Adesso abbiamo già la nostra missione E la nostra missione ora è prendere il wither e ucciderlo Per avere questa ricompensa Non ve lo vorrei dire ma stavo per morirci dentro il nether Non siamo in hardcore eh ovviamente Ve l'ho già spiegato Però Sai morire non fa mai piacere lo stesso Anche se non sei in hardcore Sono uscito apposta Dalla distanza più lontana Dal portale più lontano Scusatemi impiccio ogni tanto È l'emozione Non vi nascondo Che fare questa serie di minecraft è per me Forse sapete La fa Io registro sempre i video ovviamente Perché voi li guardiate E mi fa molto piacere quando voi sostenete la serie E questa la state sostenendo tantissimo Quindi vi ringrazio dal cuore Però Quello che volevo dirvi è che La faccio anche per me stesso questa serie Perché mi sta ridando Quel gusto E quella passione Di avventurarmi no E di essere eroico Che forse negli ultimi anni Ma non lo so Forse avevo messo un pochino da parte E mi dispiace Ah questo è ricordo Erano delle statue E mi pare di ricordare anche Che c'erano delle cose dentro Piedi di coniglio Sono rari Quindi li prendiamo Ricordiamoci quando troviamo questi piccoli templi Di aprirli sempre E io direi Che urca è schifo Quello è un regalo per Anna Che non piacerà però Mi dispiace Ma credo di non doverglielo neanche prendere Beh io direi di spawnare il wither qui Tanto che cosa ce ne importa Magari mi dispiace Giusto per il villaggio Non vorrei distruggerlo Però Oh Secondo me ce ne dobbiamo fregare Cioè da qualche parte dobbiamo combatterlo Non è che possiamo tenercelo a casa nostra Eh vedo di là Ci sono anche degli altri dungeon Per noi Eh sì Ah è anche un bombarolo eh Mi dispiace ma guarda Purtroppo ho capito male con me Ormai sono Inizio ad essere fortino Quei dungeon mi intrigano Però la regola è sempre la stessa Una cosa alla volta Detto fatto Tadam Questa è la gabbia che ci serve Ottimo Allora Non ho la sicurezza matematica Che lui non riesca a distruggerla eh Quindi noi proviamo lo stesso E vediamo un po' che cosa capita Soul Sand ce l'abbiamo Wither Skeleton ce li abbiamo Ok Lo costruiamo proprio al centro L'altezza dovrebbe essere giusta Mi pare di aver fatto tutto a regola d'arte Un teschio qua Un teschio qua Un po' mi dispiace che non mi sto portando Anna appresso Però lei me l'ha chiesto È stata proprio chiara Ha detto guarda ho visto gli episodi Tu sei andato da solo Con i ragazzi a casa ovviamente E non voglio essere troppo invavente L'ha detto lei Quindi io Da un lato le do anche ragione Perché è un po' È un po' anche molto bello stare Un po' da soli con voi Così e gestirci questa avventura Ovviamente a tratti starò anche con gli altri Poi quando saranno anche più Sarà bello fare anche delle missioni in gruppo Ovviamente Però vediamo un po' di gestircela passo passo Adesso Mettiamo L'ultimo Wither Skeleton School E dopodiché Mi organizzo bene Perché voglio anche richiudere indietro La gabbia Quindi devo decidere un pochino Che cosa portarmi Vabbè Ci teniamo così Ok Allora Metto l'ultimo Ok Oh Ma che ca... Oh mio Dio Oh mio Dio Ma è... Non voglio dire... No sì È lui È lui È Giorgio Ma ha la skin Santa Maria E... Ha la skin quella Come l'abbiamo visto Come l'abbiamo visto Sono sicuro Ha aperto anche la gabbia Ovviamente Anche io Che cavolo di domande mi faccio Ma che cavolo Ma è assurdo Ha la stessa skin Della sua statua Io lì per lì Non ho detto niente Però avevo nella mia testa Io volevo Volevo provare a fare Una missione anche per lui Infatti ve l'ho proposto Perché poteva essere Un buon modo Di fargli sapere Che ancora ci teniamo a lui E che ci farebbe piacere Mi farebbe piacere Dimostrargli ancora Che possiamo avere Delle avventure insieme Ma porca miseria Mai mi sarei aspettato Che sarebbe potuto Diventare un boss Cioè praticamente Mi state dicendo Che ognuno dei miei amici Che io non salvo Praticamente va dall'altra parte Cioè si unisce All'altra squadra Diventa un mostro Beh non è fortissimo Un wither però Cavolo Non è neanche Da considerare debole Ma porca miseria E poi è strano Non ha la forma del wither Perché il wither dovrebbe avere Tre teste Questo è una specie Di player volante Madonna Ed è forte Ed è forte È abbastanza forte Maledetto E mori E dai Vai giù Mmm Me lo adoro Dai non facciamoci fregare Non facciamoci fregare Non facciamoci fregare Ok 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 Ho buttato l'arco Questo non va bene Ora me lo riprendo Adesso devo andarci di spada Devo andarci di spada Faccio abbastanza male però eh Devo solo controllare la mia vita Fare in modo che non scenda E cercare di buttarlo giù Prima che lui butti giù me Non capisco che cos'è sta roba Ma magari ne parliamo Quando l'abbiamo tolto di mezzo Ok Ok è morto Porca miseria Porca miseria Cos'è stato? Questa Questa non ce l'avevamo prima Haunted Great Blade È una spada Però è danneggiata Ma io non ce l'avevo prima eh Potete controllare anche dal mio inventario Mi pare Sono abbastanza sicuro Di non aver avuto mai questa Questa Great Blade qui Mi pare di averla vista Sicuramente l'ho vista Sì è una delle armi Che conosco Però Non l'avevo Questa si ottiene anche in modo abbastanza difficile Poi usata così È fighissima eh Perché è una di quelle armi giganti Uno spadone gigante così È molto usurata Mi durerà poco Però Non è male Tra l'altro abbiamo trovato anche un altro arco Sicuramente Di base Migliore del mio Se io potessi trasferire gli incantamenti Questo non sarebbe male per nulla Eh Abbiate pazienza Per È un po' difficile Fermarsi a parlare delle cose che troviamo Quando in mezzo Ti attaccano cose da ogni lato eh Ragazzi io non lo so che cosa è successo Sinceramente Credetemi o meno Dipende da voi Però Eh Pare che sia tutta una cosa collegata Una sorta di missione Trova l'huiter Uccidilo Guadagni il tuo premio Il premio l'abbiamo guadagnato Ho firmato 6 Non ho idea di che cosa voglia dire 6 Eh È un numero Quindi boh Forse il sesto amico Magari La cosa che mi viene in mente È che mi spaventa anche un po' È che un amico Che io non decida di salvare in tempo Potrebbe Diventare praticamente un nemico Quindi Diventare corrotto No? Mostruoso Proprio come in questo caso Praticamente E io Credo di Dovermi sbrigare A questo punto Perché stavo un po' Posticipando La missione Numero 2 Quindi L'entrare di nuovo Dentro il vault Stavo aspettando Volevo prepararmi un po' di più Dovevo Volevo Lasciare il tempo ad Anna Di prepararsi un pochino di più Però a questo punto Non possiamo Perché io non posso rischiare Se ho capito bene Poi ovviamente voi Scrivetemi quello che voi avete capito Di questa cosa nei commenti Per favore Ve lo chiedo per favore Fatevi partecipi Scrivetemi ciò che voi avete intuito Perché io Sono un po' Perso E non ho idea Di che cosa pensare La mappa era palese Dovevamo fare Quello che abbiamo fatto Il premio Lo abbiamo avuto E questa spada Anche l'arco Ma la spada È sicuramente più bella Anche se Praticamente distrutta E usurata Però è bellissima lo stesso Ma chi è che ci vuole dare un premio E soprattutto Perché c'era Quella skin lì Parzialmente corrotta poi Perché le altre statue Degli altri miei amici Sono statue Ma sono uguali Hanno il loro aspetto Grigio Come il cemento Ma hanno il loro aspetto Invece quella statua lì In particolare Era parzialmente nera Come se fosse parzialmente Ricoperta da una sorta Di liquido venom No? Mi viene in mente a pensare E infatti oggi Praticamente si è animata E ci ha attaccato Ma bisogna vedere se a casa E cavolo Dobbiamo andare a vedere di corsa Se a casa La statua c'è ancora O se l'abbiamo persa Perché potremmo eh Cioè Avrebbe senso pensarlo Effettivamente Ci siamo Qua c'è il tempio Poi andiamo anche da Anna Perché Porca miseria A questo punto abbiamo un po' Il pepe al sedere Cioè dobbiamo sbrigarci Qui c'erano le statue di sopra Che infatti sono tutte uguali Come le ho lasciate E ancora stiamo decidendo Chi salvare come seguente E dobbiamo deciderlo Prima di entrare Ovviamente Le statue qua sotto C'è ancora Ok Da un lato mi conforta Boh Non dovrebbe Non capisco nemmeno perché E c'è anche il messaggio Io non lo so Nella mia mente Forse un po' ingenuamente Però Ho pensato E un po' anche alcuni di voi L'hanno pensato Che poteva essere Una cosa Utile Carina Magari Dedicare No Una di queste missioni No Perché magari Poteva ristabilire Un rapporto Un po' No Che si è allontanato Nel tempo Però poteva avere senso Cioè ci sta È una cosa bella In fondo Lion Ho trovato una cosa bellissima Devi venire Per forza da me Vabbè Io sto un po' sistemando Che ho trovato alcune cose Però Se è importante Guarda ci vengo Non è importante Di più Allora la gemma Che Anna ha trovato Si può utilizzare Per portare me da lei Abbiamo scoperto Che l'utilizzo Che fai è quello Ok Esattamente Usala pure E io sono pronto Ad arrivare Se funziona Lo sto usando Vedo che sto arrivando Ok Ha funzionato Sono dietro di te E ci siamo Ok Dunque Siamo in una foresta autunnale Ci sono i piferari magici E ci sono questi cartelli Io stavo vagando 900 blocchi 200 blocchi Sono due indicazioni Da quella parte Bisogna trovare qualcosa Allora era blocchi Ok perfetto Io sono andata Verso di là Un pochettino Sì Portami Da questa parte Ti faccio vedere Occhio che sta venendo il buio Mi raccomando Sì non ci interessa Abbiamo forza Da vendere noi altri E cosa hai trovato Ci sono bestie temerarie Ti faccio vedere Laggiù se vedi C'è un villaggio Sì ne ho trovato Già uno di villaggio Mi hai chiamato per un villaggio Poi No Ho guardato un po' a sinistra Guarda un po' a sinistra Anche te Che cos'è questa Una torre Ah Bello Oh cap Eeeh Quella madonna E' altissima Io avevo paura Sono tornata dagli ignomi pifferai Che è sta roba Eeeh Ti spiego Allora questa qui E' una sorta di dungeon alternativo A quelli che noi dobbiamo attraversare Però Anna non vorrei metterti fretta Però sono successe delle cose Per cui Tipo Eeeh Ti spiego poi Sarebbe il caso di darci una sbrigata E continuare a salvare gli amici Perché sono colto dalla sensazione Che qualcuno di loro Potrebbe diventare un nemico Se noi non ci sbrigiamo a salvarlo Una sorta di boss Ma in che senso Asata L'ingresso è di qua Se vuoi Ti sto appresso Sì sì Beh a voglia che voglio Ci entriamo di brutto qua dentro Magari troviamo anche un lettino Ho paura Ci guardo Ah sembra Sembra bello Oh mostri Ah tu sei armata Anna Sì Ho un'ascia E ho anche le mie balestre baby Servirebbe un'arma migliore per te Un'ascia non so che cosa ci fai Però l'importante è partecipare Ricordati sempre Rompigli gli spawner Se capisci dove sono Perché qua sono palesemente sotto queste colonne Tu rompili io penso ai mostri Ok mi raccomando Tu devi diventare sempre più forte E io al momento non ho un'arma buona per te Credo Però te la vorrei dare E magari te la do la prossima volta Uso l'arco E' meglio Ok Che ste baby boss bow Non mi piaccia Vieni Proviamo a salire Tutti i piani di questa torre Dovrebbero contenere qualcosa da raccogliere Quindi se noi ci prendiamo tutto Poi quando ne usciamo Tecnicamente siamo belli ricchi Per esempio qui Ma possiamo anche depredarla? Ha voglia Però mi sa che per aprire alcune di queste casse Mi sa che servono chiave Ci sono delle sfide da completare Qua ti dice Che devi uccidere un iron golem Probabilmente per aprire E secondo me per aprire la cassa di sotto Perché qui siamo esattamente sopra A dove era la cassa sotto Guarda cosa ho notato io invece Vieni qua Qua c'erano delle sbarre C'è un'altra di quelle casse E sopra c'è un item frame Ah quindi devi metterci un oggetto Infatti te lo dice Può essere La cassa è bloccata Beh secondo me per aprire qua Quella sotto Secondo me bisogna uccidere un iron golem E mi domando se non lo dobbiamo anche spawnare noi l'iron golem da uccidere Anche perché È probabile Anche perché se Essendo dei pillager Loro non fanno iron golem No infatti qui non dovrebbe spawnare per niente Salendo di più Tu dai un'occhiata a questo piano E io controllo al piano ancora più sopra Va bene? Va benissimo Anche qui c'è una cassa infatti E se neanche questa È neanche questa È bloccata anche questa Anna E mi sa che veramente le chiavi si ottengono terminando delle sfide a questo punto Salendo fino in cassa Salendo fino in cima tu dici Finendo la torre Guarda che può essere Allora ricordiamocelo Prova per dire Vieni anche tu saliamo ancora Sto salendo Qua saltiamolo Saliamo fino in cima Vediamo che cosa troviamo proprio in cima in cima alla torre Io e Anna ci siamo accorti che uccidendo i vostri dentro la torre Abbiamo raccolto queste chiavi Land monolith key E secondo me sono esattamente quelle Che servono ad aprire questo strano monolith Che c'è qua Hai visto che ha delle fessure? Sì sì Secondo me si apre così E io penso che aprendo lo spawn un boss qui Quindi dobbiamo stare un po' in guardia Quante chiavi Hai delle armi cose Perché non ho niente Io ti uccido a te al posto che al boss Se fai così Ho capito Ma se tu dici che c'è un boss Io ho un'ascia Io ti uccido a te al posto che al boss Ti uccido a te Diventi il mio boss Ti uccido e io ci provo anche gusto Secondo me a ucciderti ogni tanto Faccio io Lo so Tu prenditi l'arco o la balestra Quello che hai E lo colpisci da lontano Io lo colpisco da vicino Dammi le chiavi però Alla tua domanda io ho sei chiavi Tieni Dai Non sei una brava avventuriera se ti comporti così Sei una pasticciona Non c'è spazio per pasticcioni Qui in questa serie Ho capito Hai ragione Ma sono disarmata Non sei disarmata Io prima te l'ho chiesto E tu hai detto che stavi bene così Hai cambiato idea Vabbè Sì Davanti a un boss Cambio idea Funziona eh Effettivamente Cos'è Ma lo so Però mi sa che ho fatto qualcosa Che non dovevo fare Sì No 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 Te l'ho detto Te l'ho detto Non è forte È scarso È scarso È scarso È scarso È scarso È vero Non è scarso Non è scarso Tu picchialo da lontano Pestalo Picchialo da lontano Picchialo da lontano Porca miseria Picchialo da lontano Tu eh Non ti far colpire Se io ci Io non ci muoio Io non ci muoio Tu non ci devi morire L'importante è che non ci muori tu Anna Dai a cento Tranquilla Tranquilla Devo fare il giro dall'altra parte Corri ne veloce Corri ne veloce Vai Iiii Mi fa male Non ti far colpire È morto Madonna che potenti che siamo Sei potente Anche tu Abbiamo ucciso il guardiano della terra Brava Brava Hai trovato un bel Un bel posto eh E tra l'altro ha dato Un epic shader grab bag E l'atto Ho capito La torre sta crollando Scappa Ma sei stessando Scappa 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 Esplode da sopra Esplode Esplode da sopra Devi scendere Scendi Scendi Non ti fermare Sto fare il mio meglio Anna tu sei dietro di me Dimmi che sei dietro di me Sì sono dietro di te Corri Corri più veloce Corri più veloce Corri 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 Anna buttiamoci da qui Ok buttiamoci da qui Così No è alto Anna È un po' alto per te Forse per te è alto Scendi così Scendi scendi Stai esplodendo di tutto Stai esplodendo di tutto Stai esplodendo di tutto Ok Ci sono Ci sono Ci sono Ok Infatti guarda Guarda da sopra Guarda da sopra Sta cronando Lion ci sono Tieni attento Che botta Occhio eh Anna Occhio Spostati Sei viva Dimmi che sei viva Guardali che roba Sono dietro di te Ti stai esplodendo di tutto Eh lo vedo Però l'importante È che noi Ne siamo usciti Vivi e vegeti E non solo Abbiamo preso Anche il loot Del boss Che c'era qua dentro Che figata L'hai visto Era fichissimo Occhio allo slimino Perché sarebbe Una presa in giro Se ci uccidesse lui Invece che il boss Che c'era là dentro Brava Anna Finalmente Io così ti volevo Questa è La wake up call Che ti serviva Il risveglio Dell'avventuriera Che torna ad avventurare Finalmente Ne voglio un'altra Eh lo so Lo so Però ci sono Guarda che la sfida del dungeon Per liberare i nostri amici È ancora molto più difficile di questo Quindi dovrai essere Ancora più pronta allenata E lì dentro Non c'è spazio Per non ho armi Non sono pronta Ho paura Lì devi essere pronta E perfetta Quindi ti dovremo preparare Sono pronto e troverò armi Allora le chiavi che abbiamo Tienile tu Perché potrebbero servire Ad aprire altre casse In un'altra di queste torri Uguali a questa Perché purtroppo le casse Io contavo di aprirle Ma si sono distrutte tutte Nella distruzione della torre No non ci avevo pensato Dai magari c'erano tesoroni Però Però Attenzione Perché questa Epic grab bag Grab bag vuol dire tipo Scatola misteriosa C'è del loot C'è del loot dentro Però qual è il problema Come tu ben sai In questa failcraft Attenta Aspetta Ci sono delle ricerche da fare Per poter utilizzare Le varie cose Infatti Non mi dire che anche questa Qua dentro Nella pozione Noi abbiamo tutte le mod Del gioco E per utilizzarne ognuna Dobbiamo spendere un punto Purtroppo io Per quanto mi manca uno zighino Non ho ancora nemmeno un punto E questi punti si guadagnano Sempre dentro i vault Quindi dobbiamo davvero sbrigarci Anche perché Qui ci sono cose davvero utili Anche Per esempio Quei pilastri di teletrasporto Che sarebbero utilissimi Per tornare Quei servirebbero un botto Vieni per esempio Qui nel villaggio Se non ricordo male Ce n'è sempre uno Ma se noi ci avviciniamo E lo proviamo ad usare Ci dice che ci manca la ricerca E quindi non lo possiamo usare Neanche per tornare Quindi non possiamo neanche Sbloccare quelli esistenti No Non possiamo fare proprio niente Finché non spendiamo Un punticino Ecco vedi Eccolo qua Guarda io mi ci avvicino Ci clicco E mi dice Per interagire con questo blocco È necessario fare una ricerca Su Wastons E noi questa ricerca Su Wastons Ce l'abbiamo È proprio qui Ma non l'abbiamo ancora fatta E non lo possiamo fare Perché ci serve un punticino No Non ci credo Dobbiamo aprire il vault La stessa cosa Si applica su questo Grab bag Viola Che abbiamo trovato Richiede la ricerca Dell'ingegneria Immersiva Che non so bene Che cosa sia Ma evidentemente È qualcosa di figo Che c'è qua dentro E quindi non possiamo Aprire nemmeno questa E finalmente Eccoci tornati Nel nostro castello Per sistemare Questa vecchia babbiona Che non sei altro Allora No allora Vecchia babbiona No ma sono pronta Ad essere armata Dammi La chest plate E i pantaloni E una spada Già pronta per te Poi Ho commerciato Un po' Con i nostri Amici Villager Che bello Verbi Che mi fai di bello Allora Ti faccio Prima di tutto Ti faccio Chest plate Con il miglior protection Che mi è capitato Che è protection 4 Ecco qui Poi ti faccio I pantaloni Con il secondo miglior protection Che è protection 3 Così Buono Mi piace Poi nella spada Poi nella spada Ti ci metto Smite Che è l'enchantamento migliore Perché Come i ragazzi già sanno Dentro i dungeon Dei nostri amici Ci sono un sacco di scheletri E zombie Un po' dappertutto Ma specialmente lì Ce ne sono tantissimi Quindi ti servirà E ci vuole di brutto smite Poi Io nella mia ho messo Un po' di roba a caso Perché volevo provare Gli enchantment Però per te c'ho Stunning 3 Che stunna i nemici Li paralizza praticamente Fichissimo Mi piace E poi ti volevo mettere Anche Swirling Che i danni critici Quindi gli attacchi in salto Diventano Tipo una pirouette E fa danno tutto intorno Però purtroppo Non si può combinare Con stunning Quindi te la tieni così Che comunque Secondo me È una spada Mi piace un botto Poi ti ridò La chestplate E i calzoni Così E adesso inizia a essere Un pochino più protetta Di prima Ora mi sento più epica Vediamo se sto Swirling Ah Neanche nella mia Ci può stare Peccato Doveva essere bello Va bene Non fa niente Allora A questo punto Il tour del castello Ve l'ho già fatto Ovviamente È work in progress Le mura diventeranno diverse Da quella parte Sorgerà la parte Centrale del castello Con tutte le nostre stanze Che mano mano aumenteranno Esatto E quelle servono Perché qua Dormire all'aria aperta È sempre pericoloso E poi tra un po' Ci saremo in tanti In questa serie Io salverò tutti Ovviamente E tu mi aiuterai Ma in ogni caso Per oggi Ci dobbiamo fermare La prossima volta però Dobbiamo iniziare Entrando E riaccendendo il portale Quindi Io ne approfitto E lo accendo Già da adesso Così non possiamo Posticipare più la cosa E dobbiamo decidere Chi salvare Soprattutto Quindi lì Dovete essere voi A prendere una decisione Ho visto che molti di loro Votavano Cico Molti altri votavano Mario e Stefano Perché erano i primi Cavalieri Della vecchia Failcraft Quindi giustamente Gli ostagici Però dobbiamo anche Ragionare un po' A livello di Chi ci sarebbe Di più Chi potrebbe aiutarci Di più A salvare Poi anche gli altri Chi porterebbe Effettivamente aiuto Nella missione Di salvataggio Quindi cercate Di essere Più obiettivi E di puntare A salvare tutti Perché noi dobbiamo Salvare tutti No L'ordine è relativo Però adesso Anna Stai attenta E guarda come si accende Questo portale È bellissimo Multicolore Io qui sono entrato Per la prima volta Per salvare il tuo sedere Ma ora Ci dovremmo rientrare Per salvare anche Quello degli altri Non vedo l'ora Di salvare il prossimo Per oggi però Vi saluto Dateci tutti i suggerimenti Che vi vengono in mente Abbiamo bisogno di voi E per oggi Lion e Anna Out Ciao